Controlli dei carabinieri a Torre Annunziata e Bosco Reale, denunce, sequestri e arresti. 95 persone identificate, 53 veicoli controllati, 5 gli scooter sequestrati. I carabinieri del comando Compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato dei posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga all'interno del quartiere del centro storico Provolera. Denunciato a piede libero un 22enne, nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un fucile all'aria compressa, uno scanner di frequenze radio, un rilevatore di microspie, due apparati GPS e un metal detector. Denunciati per esistenza pubblico ufficiale anche altre due persone che in due diversi episodi a bordo dei rispettivi scooter non si sono fermati all'alt intimato dai carabinieri. Le accomuna la breve fuga e il fatto che i militari li abbiano bloccati poco dopo. A Bosco Reale invece i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato Fulvio Titas, 29enne di Trecase e Antonio Guastafierro, 23enne del posto. Sono entrambi già noti alle forze dell'ordine e dovranno rispondere di resistenza pubblico ufficiale. Titas anche per evasione visto che era sottoposto agli arresti domiciliari. I militari li hanno notati a bordo di uno scooter mentre percorrevano via Trivio Marchese. Indossavano abiti scuri, il casco integrale e dei guanti in lattice. La targa del mezzo era contraffatta con del nastro adesivo. I due non si sono fermati all'alto dei carabinieri, di cui l'inseguimento per 4 chilometri. Dopo hanno abbandonato lo scooter e tentato di fuggire a piedi ma sono stati bloccati poco dopo. Gli arrestati sono in attesa di giudizio, lo scooter intestato nella società di noleggio è stato sequestrato.